Il tema è quando i dominati, anziché muoversi con le proprie mappe concettuali, si muovono con le mappe concettuali dei dominanti, che è quello che sta avvenendo oggi. Io credo che mai prima di oggi, in tutta la storia dell'umanità, era avvenuto in maniera così netta e radicale che i dominati si muovessero con le mappe categoriali dei dominanti e che quindi finissero necessariamente per amare le proprie catene e i rapporti sociali tali da giustificare il loro dominio. Oggi è in auge una vera e propria neolingua di tipo orwelliano che serve a santificare le idee dominanti e a demonizzare preventivamente la stessa costituzione possibile di idee non allineate con quelle dell'ordine dei dominanti. Questa neolingua ha già da tempo coniato un'espressione con la quale scredita a priori, in maniera preventiva, ogni possibile dottrina, teoria o anche suggestione non allineata con l'ordine dei dominanti. E questa parola è la parola così in auge oggi, fake news. Con la parola fake news si scredita molto genericamente tutto ciò che non è allineato con l'ordine del discorso dominante. Addirittura è stata istituita una task force contro le fake news, cioè contro ogni visione non allineata. Ora, bisogna intendersi naturalmente quando si parla di fake news e non entro nello specifico del discorso ora. Mi limito a dire che, faccio un esempio concreto, dato che ci sono gli stati generali, forse torna anche di una certa attualità paradossalmente, anche se qui parlerò degli stati generali quelli precedenti. Quindi, ecco, quando dire che re Luigi XVI non morì è ovviamente una fake news. In effetti è falso, morì re Luigi XVI nel 1793. Ora, questa è una fake news, certo. Ma dire che re Luigi XVI fu ucciso barbaramente o fu invece giustiziato in maniera sacrosanta, capite bene, che mette capo a due diverse interpretazioni della realtà. Uno può sposare una tesi o l'altra, si può discutere, ma è evidente che oggi ci troviamo in un ordine del discorso che liquida come fake news la tesi di chi dice, supponiamo, re Luigi XVI fu massacrato barbaramente. O l'altra versione, se preferite, era solo per far capire l'aspetto. Cioè, con l'accusa di fake news si dice di voler colpire chi dice che re Luigi XVI non fu ucciso. Ma in realtà l'obiettivo è di colpire, come fake news, chi dia un'interpretazione non allineata a quella dominante. Questa è la vera posta in gioco. La vera posta in gioco non è colpire chi dice 2 più 2 fa 5, no? Quello è talmente evidente che non c'è neanche bisogno di una task force. Ma è di colpire, come se dicesse che 2 più 2 fa 5, chi dice, ad esempio, che la globalizzazione capitalistica non produce ricchezza e ben godi per tutti, ma produce invece miseria e sfruttamento, per dirne una. O per parlare di cose molto attuali che il lavoro precario, con buona pace di chi lo invoca anche in questi giorni, non produce più assunzioni e migliori condizioni lavorative, ma esattamente il contrario, dati di economisti anche alla mano. Ecco quindi che allora abbiamo in campo visioni del mondo contrapposte fra loro. Io nel libro parto da un'affermazione di Pasolini, da Petrolio, l'ultimo romanzo di Pasolini, nel quale si dice testualmente dovremmo smetterla di parlare il linguaggio dei nostri padroni. Questo dovremmo fare, smetterla di parlare il linguaggio dei nostri padroni, che chiamano libero mercato